Allora, buonasera a tutti. Io e Mattia volevamo fare una piccola conferenza online sui Carracci, in particolare su Ludovico Carracci, che è stato un grandissimo pittore a cavallo tra 500 e 600 ed è un pittore che, tra l'altro, è stato riscoperto solamente agli inizi del Novecento. E adesso lascio la parola al mio collega Mattia. Ok, allora io inizio. Allora, nel 1517 Martín Lutero affigge le 95 tesi sulla porta della cattedrale di Wittenberg e con questo gesto egli dà vita a un vero e proprio cambio pagina storico. Il protestantesimo metterà in discussione vari aspetti della Chiesa Cattolica. Martín Lutero, infatti, non accettava il culto dei Santi e mise sotto critica alcuni dei dogmi cattolici, ma ciò che Lutero criticava maggiormente, diciamo, erano due aspetti, ciò che criticava maggiormente, la vendita delle indulgenze e la corruzione che stava alla base della Chiesa. La vendita delle indulgenze prevedeva che il fedele pagasse la Chiesa per far accorciare il tempo che i propri affetti dovevano passare in purgatorio. Si sviluppò anche il concetto di iconoclastia, ovvero l'andare contro l'utilizzo delle immagini sagre, in quanto esse erano viste come l'incarnazione del divino, come doppi di ciò che si dipingeva, dunque erano viste come icone, idoli e per questo andavano bandite. Tuttavia, è anche vero che Lutero sopportava alcune iconografie da dipingere, come il battesimo di Cristo, l'ultima cena, la crocifissione, il compianto e la resurrezione. Giovanni Calvino, invece, a differenza di Lutero, bandiva completamente l'uso di qualsiasi immagine. A tutto questo fermento protestante, la Chiesa, cattolica, rispose col Concilio di Trento, tenuto dal 1545 al 1563 e bandito da Papa Paolo III Farnese. Dunque, alla riforma protestante, la Chiesa cattolica rispose con la Controriforma e col Concilio di Trento, ovvero col tentativo di ribadire i propri principi e le proprie posizioni riguardo la fede e la religione cattolica. La Chiesa ribadì il culto dei Santi e il culto delle immagini. Per essa, infatti, cioè per la Chiesa, Dio si era fatto uomo in Gesù Cristo e per questo Dio, Gesù Cristo, potevano essere rappresentati. Poteva essere rappresentato Dio perché facendosi uomo è sceso in terra, in questa terra, perché ha vissuto come un qualsiasi essere umano e quindi perché è entrato nella storia dell'uomo. Tutto questo abilitava la rappresentazione di Dio barra Gesù, entrambi. L'immagine per la Chiesa era un tramite quindi per instaurare una relazione tra il fedele e Dio. Secondo il Concilio di Trento e secondo il Vescovo di Bologna, Gabriele Paleotti, l'immagine aveva uno scopo educativo e catechistico, ovvero l'immagine serviva al fedele anche per commuoversi davanti alle rappresentazioni del divino e quindi serviva per facilitarlo nella preghiera. Con la controriforma e col Concilio di Trento la Chiesa non sola metteva l'uso dell'immagine, ma la usava come mezzo di propaganda religiosa, ovvero l'immagine doveva raccontare gli episodi sacri in modo chiaro e comprensibile a tutti. L'immagine doveva raccontare le vicende sacre aderendo alla verità storica di quelle stesse vicende, senza togliere o aggiungere nulla. Quindi, se voglio rappresentare, per esempio, il battesimo di Cristo, dipingerò solo ciò che serve per far capire al fedele che questo, cioè che l'immagine, è il battesimo di Cristo. Niente di più, niente di meno. Tutti dovevano, guardando un'opera, comprendere ciò che essa voleva comunicare. Per questo, tutto ciò che non serviva a comunicare una determinata verità o fatto religioso andava eliminato. L'opera doveva essere, cioè, spoglia di tutto ciò che è accessorio, di tutto ciò che non serve. Doveva dunque essere essenziale e immediata, diretta. L'opera per la Chiesa doveva stimolare la devozione e la fede e aiutare il fedele a pregare, entrando in una relazione intima col divino. La Chiesa, per non dare possibilità ai protestanti di scagliarsi contro di essa, obbligava a eliminare dalle opere visive tutti gli abusi o tutto ciò che non serviva per comunicare un determinato sentimento o un determinato dogma o per narrare un certo fatto religioso. L'opera, quindi, doveva essere immediata, facile e comprensibile a tutti, dotti e non. L'immagine doveva risvegliare nel fedele la devozione e la voglia di pregare e di affidarsi a Dio. L'immagine doveva comunicare ai fedeli le verità religiose e i fatti sacri. Il vescovo bolognese Gabriele Paleotti abbracciava tutte queste posizioni uscite dal concilio di Trento e quindi figlie della controriforma. Paleotti prediligeva quindi l'immagine al discorso, alla predica, alla lettura dei tessi sacri, per il semplice fatto che l'immagine è più immediata rispetto ad una lettura o ad una predica. Infatti la predica e la lettura occupano un tempo che si scandisce nel suo avanzare, mentre se guardo un'immagine tutto ciò che essa vuole comunicare è immediato, cioè essa comunica ciò che vuole in un attimo. Quindi se per i protestanti e i calvinisti l'immagine è bandita perché vista come doppio del divino, vista come incarnazione del Dio, vista quindi come idolo o icona, per i cattolici l'immagine era uno strumento invece che rappresentava i fatti sacri aderendo alla loro storicità, senza inventare nulla. Era uno strumento per insegnare la verità di fede al fedele ed era uno strumento per emozionare il fedele e stimolare la sua devozione. Si parla quindi di verosimile e di verità storica, cioè ogni evento sacro dipinto doveva rispettare la sua storicità. Non si potevano inserire altri elementi che non erano presenti nelle sacre scritture. Come detto, se voglio rappresentare il battesimo di Cristo, dipingo solo ciò che è presente nella Bibbia laddove essa parla del battesimo di Cristo. Le opere dovevano essere patetiche, cioè dovevano avere pathos, cioè dovevano emozionare il fedele e risvegliare in lui la necessità della preghiera e della fede e quindi la sua devozione. Dunque, questo è il clima che si rispirava nella Bologna, e ovviamente non solo, del Cinquecento. Artisti che abbracciano le volontà della Chiesa sono i tre carracci. E quindi adesso vado, diciamo, più al sodo, al nucleo centrale della conferenza, insomma. I carracci sono coloro che diedero vita ad una riforma artistica e che abbracciarono i dettami usciti dal Concilio di Trento, come detto. Quindi andavano incontro alle volontà di Paleotti. Oggi noi parliamo in modo introduttivo dei carracci in generale, ma successivamente, alla mia introduzione, insomma, il mio collega parlerà in modo specifico di colui che più degli altri tra i carracci abbracciò le volontà della Chiesa e del Paleotti, ovvero appunto Ludovico Carracci. I carracci sono coloro che prendono atto dalla pittura manierista presente a Bologna e partendo da questa consapevolezza danno vita ad una riforma artistica che abbandoni il manierismo. Ma cos'è il manierismo? Il manierismo è quel periodo storico che comprende il Cinquecento ed è il periodo durante il quale gli artisti amano sfoggiare la loro abilità tecnica nell'eseguire le opere visive. I manieristi partono dallo studio degli artisti del Rinascimento, apprendono delle licenze, cioè delle libertà, dando vita ad opere nelle quali mostrano la loro abilità tecnica, creando dunque figure virtuose e attorcigliate proprio su se stesse, corpi attorcigliati. Quindi figure allungate, eleganti e che richiamano nella loro forma la forma della lettera S. figure non proporzionate in modo corretto, proprio perché allungate e in atto di compiere torsioni col busto e la testa. I carracci, stanchi ormai di queste soluzioni, dette manieriste, decidono di dipingere e disegnare affacciandosi al vero naturale, al mondo reale. I carracci, dunque, agli schimi manieristi ormai risicchiti, sostituiscono lo studio del vero, della realtà, della natura, così come esse sono. Ovvero, i carracci dipingono ciò che vedono, ma eliminando ciò che non serve per comunicare un determinato messaggio con una determinata opera. Dunque abbracciano le volontà del Paleotti e post-tridentine. Le loro opere sono essenziali, presentano solo ciò che è necessario per l'evento, l'episodio che sta o l'episodio che stanno dipingendo. Le loro opere sono facili, chiare e comprensibili a tutti e stimolano la devozione nel fedele, proprio come voleva la Chiesa e proprio come voleva Gabriele Paleotti. Perché le loro opere sono facili e comprensibili? Perché dipingono, aderendo a ciò che la storia tramanda, attraverso le sacre scritture, senza aggiungere null'altro. Le loro opere emozionano e stimolano la devozione nel fedele, in quanto sono dipinte con uno stile caldo, affettuoso, sensibile, dolce e battetico, ovvero che ha pathos, sentimento. Tuttavia, i carracci, nella loro accademia, facevano studiare agli allievi il vero, ma non solo. Nella loro accademia, la formazione prevedeva anche lo studio dell'antichità e lo studio dei grandi maestri del Rinascimento, soprattutto dei Veneti e di Correggio, ovvero un pittore che dipingeva opere dolci, affettuose, patetiche, umane, sensibili. Data quest'ampia formazione, talvolta le loro opere, pur affacendosi e dipingendo il vero naturale, a volte venivano passate sotto il filtro dell'idealizzazione. Tra i tre carracci, quello che più di tutti abbracciò le volontà di Paleotti, quindi quello che creò opere più affettuose, più patetiche, più verosimili, cioè più aderenti all'episodio sacro e più devote, più stimolanti, fu Ludovico. Ludovico fu cioè quello che tra i tre sapeva stimolare meglio nel fedele, la fede e la devozione. Allora, io cambio immagine e vado sull'annunciazione del 1584, conservata la Pinacoteca di Bologna. L'opera l'ho scelta per cercare di dimostrare quanto sia vero quello che ho detto, insomma. Qui ci troviamo davanti, infatti, a un'opera diretta, immediata e di facile comprensione. Vi è rappresentata l'annunciazione e questo è ben comprensibile vedendo la presenza dell'angelo e della Vergine e anche dello Spirito Santo che scende sotto forma di colomba dalla finestra. Siamo davanti ad un'opera che trasmette ciò che deve trasmettere senza perdersi i fronzoli inutili. Vi sono l'angelo, la Madonna, la colomba e la stanza nella quale avviene l'annunciazione stessa. Non vi è nulla di superfluo che possa distogliere l'attenzione dall'annunciazione. Dunque l'opera è semplice. In questa opera non ci sono cori angelici o visioni celestiali, come ci si potrebbe aspettare, dato il tema. Ci sono solo Maria e l'angelo e la colomba. Stop, nient'altro. E' cioè un'opera di tono popolare, umano, quotidiano, dolce e capace di emozionarci, di stimolare in noi la devozione e la priera. Allora, io a questo punto avrei finito. Come dire, c'è Carlo? Tu ci sei? Sì, io ci sono. Allora, se chiudi la condivisione, io condivido adesso il mio schermo. Ok, adesso ci provo. Ok, bravissimo. Allora, ecco, io a differenza di Mattia Giacomel che ha fatto una sintesi fondamentalmente della carriera dei Carracci e ha spiegato molto bene, tra l'altro, la questione della controriforma. Io presento altri cinque dipinti di Ludovico Carracci e li presento fondamentalmente in ordine cronologico perché chiaramente vorrei far vedere praticamente tutto il percorso stilistico di Ludovico dalla prima fase che è la fase iniziale fino alla piena maturità del pittore. Allora, il primo dipinto è Alessandro Magno e Taide che incendiano per sepoli. Un dipinto del 1592 che si trova attualmente a Bologna, a Palazzo Francia. Allora, questo dipinto è un dipinto molto interessante dal punto di vista iconografico perché è la scena in cui Alessandro Magno insieme alla prostituta Taide incendiano per sepoli e Carracci ha dipinto questa scena prendendo come punto di riferimento gli scritti dello storico greco Diodoro Siculo. Allora, Diodoro Siculo infatti, nei suoi scritti, afferma che dopo la presa di Persepoli da parte dei Macedoni Taide, volendo vendicare l'incendio che Cerse aveva appiccato al Tempio di Atena, sull'acropoli di Atene durante la Seconda Guerra Persiana pronunciò un discorso col quale riuscì a convincere Alessandro Magno a incendiare prima il palazzo di Cerse e poi tutta la città di Persepoli. Una cosa interessante da tenere presente è che per tutto il rinascimento Alessandro Magno viene considerato come un personaggio storico straordinario un personaggio che è riuscito a costruire questo vastissimo impero che è appunto l'impero macedone, un personaggio che è riuscito tra l'altro a condividere la sua cultura greca con altri popoli in particolare ha condiviso la sua cultura greca con i persiani e qui Ludovico Carracci rappresenta la parte più oscura di Alessandro Magno ovvero rappresenta Alessandro Magno nel momento in cui incendia tutta la città di Persepoli insieme alla prostituta Taide. In questo dipinto Alessandro Magno e Taide sono rappresentati in primo piano che tengono in mano una torcia nell'atto di incendiare tutta la città. Dietro ai personaggi principali è presente anche una schiava persiana che tenta di fermare i due personaggi principali Alessandro Magno e Taide e dietro di lei sono presenti altri personaggi sono presenti i soldati di Alessandro Magno che anche loro con le loro torce cercano di incendiare la città ma ci sono poi altri personaggi, altre donne persiane che invece tentano di fermare tutti i soldati di Alessandro Magno. Ed è interessante questo dipinto il fatto che Ludovico Carracci probabilmente è stato l'unico pittore rinascimentale italiano a dipingere questa scena dell'incendio di Persepoli da parte di Alessandro Magno. E qui vediamo che Ludovico Carracci ecco chiaramente qui non solo ha dipinto scene sacre ma ha dipinto anche scene storiche o scene tratte dalla letteratura italiana. In questo caso Ludovico Carracci è nella fase in cui non ha ancora raggiunto la piena maturità artistica e lo si può vedere dal fatto che dipinge i corpi ancora molto sproporzionati e manca ancora l'utilizzo del contrasto della luce tipico di Caravaggio che lo utilizzerà nei dipinti successivi. Quindi diciamo che questo dipinto è molto interessante soprattutto dal punto di vista iconografico che dal punto di vista stilistico. È presente poi una riproduzione del dipinto di Ludovico Carracci un disegno in sanguigna dell'artista Carlo Antonio Pissarri. Pissarri realizza questo disegno nel 1750 ed è un disegno che si trova attualmente a Bologna. Il secondo dipinto è Rinaldo Armida nel Giardino Incantato è un dipinto del 1593 che si trova attualmente nel Museo Nazionale di Capodimonte di Napoli. Questo dipinto fondamentalmente Ludovico Carracci illustra una scena tratta dall'opera di Torquato Tasso La Gerusalemme è liberata un'opera pubblicata nel 1581 pubblicata 12 anni prima della realizzazione di questo dipinto. E qui Ludovico Carracci dipinge la scena in cui Rinaldo viene catturato dalla strega siriana Armida. In questa scena Rinaldo si innamora di Armida ed è interessante il fatto che in questo dipinto ci sono elementi iconografici legati alla vanità di Armida, ovvero è presente lo specchio dipinto a sinistra e poi c'è il pappagallo rappresentato in alto che anche quello è un simbolo di vanità della strega Armida. Poi c'è un'altra cosa da tenere presente in questo dipinto è che sono presenti anche altri due personaggi importantissimi in alto a destra. Questi due personaggi sono Cardo Ubaldo che sono gli amici di Rinaldo che riusciranno a liberare Rinaldo dalla strega Armida. Ecco, questa scena è una scena molto diffusa alla fine del Cinquecento perché l'opera di Torquattotas, ovvero la Giurisaleme liberata, ebbe un enorme successo e infatti molti artisti dipinsero questa scena, ovvero Rinaldo e Armida nel Giardino Incantato. Il terzo dipinto è l'Allegoria della Providenza, un dipinto del 1604 che si trova a Roma nei Musei Capitolini. Allora, come raccontava prima Mattia Giacomel, Ludovico è quello che, a differenza dei cugini Annibale e Agostino, è quello meno, Ludovico è quello meno classico. In questo dipinto però si vede che Ludovico utilizza lo stile classicheggiante dei cugini Annibale e Agostino. Un'altra cosa interessante di questo dipinto è il fatto che qui Ludovico, per rappresentare l'Allegoria della Providenza, un soggetto molto amato durante la controriforma, qui Ludovico, per rappresentare questa allegoria, unisce altre tre allegorie, che sono l'Allegoria dell'abbondanza, che lo si può notare attraverso la rappresentazione della canestra di frutta, l'Allegoria della pace, e l'Allegoria della carità, che qua si può vedere che Ludovico rappresenta anche questa allegoria mostrando il gesto dei angioletti, dei puttini rappresentati in basso a destra. Tra l'altro qui Ludovico Carracci realizza un bellissimo paesaggio con una tecnica, cioè con uno stile molto particolare, ben dettagliato, e quindi dipinge tra l'altro, come diceva prima Mattia, dipinge un bellissimo edificio romano. Tra l'altro tutti i Carracci hanno studiato attentamente gli edifici romani. Il quarto dipinto è questo, è una Madonna con il bambino e Santi del 1607, ed è un dipinto che si trova attualmente nel Metropolitan Museum of Art di New York, ed è un dipinto voluto dal cardinale Benedetto Giustiniani. In questo dipinto invece qui Ludovico Carracci raggiunge la piena maturità artistica, perché qui Ludovico, per rappresentare la Madonna, prende come punto di riferimento una delle tante sibille dipinte da Michelangelo nella Cappella Sistina, e qui tra l'altro Ludovico utilizza i colori cromatici di Parmigianino e di Correggio. In questo dipinto poi ci sono elementi legati all'Eucaristia, come per esempio la spiga che tiene in mano Gesù Bambino e il libro che tiene in mano la Madonna. I santi presenti in questo dipinto sono al primo piano San Bernardo di Clairvaux, dietro a San Bernardo sono presenti per esempio San Pietro, rappresentato con le chiavi, Sant'Andrea, rappresentato con la sua croce X, San Paolo, rappresentato con la sua spada, Santa Caterina d'Alessandria, che è rappresentata con la sua ruota del martirio, e poi al centro del dipinto c'è una santa di cui non si sa il... difficile identificazione, probabilmente Santa Polonia, o comunque una santa martire. Questo perché questa santa tiene in mano una palma del martirio. Di questo dipinto poi è presente anche un disegno preparatorio sempre di Ludovico Carracci. Questo disegno non si trova al Metropolitan Museum of Art di New York, ma si trova a Londra. Come vedete... Ecco, ops. Ok, allora, l'ultimo dipinto che volevo... Scusate un attimo. Ecco. Questo invece è l'ultimo dipinto che è sempre di Ludovico Carracci, che è il San Sebastiano gettato nella cloaca massima. È un dipinto del 1612 voluto dal cardinale Marcello Barberini. In questo dipinto vediamo che Ludovico Carracci ha raggiunto la piena maturità artistica, perché non soltanto qui Ludovico utilizza lo stile di Michelangelo e poi utilizza anche i colori cromatici di Parmigiano e di Correggio, ma qui si vede che Ludovico utilizza il contrasto di luce tipico di Caravaggio. Qui la luce... Qui in questo caso la luce proietta il corpo del santo. Allora, questo dipinto è stato apprezzato molto dal committente. Il committente ha apprezzato la resa dettagliata dei muscoli di tutti i personaggi, sia dei soldati romani sia del corpo del santo. Ma questo dipinto però venne molto criticato dalla Chiesa Cattolica perché la Chiesa Cattolica non ha accettato l'idea di vedere il santo gettato nella cloaca massima. Poi, un'altra cosa interessante di questo dipinto è che sono presenti sia i soldati che gettano il corpo del santo, ma sono presenti anche i soldati che osservano e basta. Come per esempio i soldati rappresentati in alto a destra ed è presente tra l'altro un arciere con i simboli del martirio del santo ovvero l'arco e le frecce. vorrei anche ricordare che questo dipinto inizialmente si trovava nella collezione privata di Marcello Barberini e adesso questo dipinto si trova nel Paul Getty Museum di Los Angeles. Oltre a questo dipinto poi Ludovico Carracci realizza un disegno preparatorio e questo disegno preparatorio si trova attualmente al Museo del Louvre di Parigi. Per concludere il mio discorso volevo leggere un testo di Roberto Longhi che praticamente è un po' la sintesi di quello che ha detto anche Mattia Giacomel che è questa è un testo del 1934 è palese che il movimento dei Carracci è un movente lombardo inteso a scavalcare il cadavere del manierismo e a comunicare direttamente ad apertura non di libro ma di finestra con lo spettacolo mutevole delle circostanze di natura. Ecco con queste ultime parole io concludo il mio intervento. Perfetto molto molto bene insomma. quindi niente allora io sono molto contento di questa conferenza è è stato un piacere lavorare con Mattia che anche lui ha fatto un ottimo lavoro e lo ringrazio tantissimo perché chiaramente ha contribuito a questo a questo piccolo progetto. Grazie a te. Quindi niente io con insomma concludiamo questa conferenza e saluto tutti e ci vediamo insomma al prossimo incontro. Perfetto ok ci sarò anch'io. Sì buona serata a tutti e niente ciao 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 ciao